Chi lo sa se c'erano cinque alberi in tutto prima, ora invece la sensibilità per fortuna ci fa capire che si può progettare in un'altra direzione. Ecco, quindi, questa era giusta una carrellata, una sorta di suggestione progettuale, però è chiaro che vedendo questo tipo di esempi, di interventi, sapendo come sono andate le cose fino ad oggi, questo ci insegna, ci porta alla conclusione che spazi per errori non ce n'è più, City Life ce la siamo giocata, c'era una stretta di mano fra l'ente fiera e il comune per cui la dismissione della fiera doveva essere il nuovo centro a parte di Milano, non si è visto, Garivaldi ce la siamo giocata, Expo, ci vediamo tutti fra un po', là fuori vediamo come va, la goccia forse è l'ultima opportunità di uno spazio che si può riprogettare intelligentemente e sensibilmente, perché la cosa più importante nella qualità della vita è la città che trovi quando esci di casa, non c'è niente da fare, tu puoi avere l'appartamento più bello del mondo per comprare nelle nuove case che hanno un po' di rato super dietro, l'appartamento più bello, però quando esci devi trovare il mondo come lo vuoi e io penso che veramente questa sia una delle ultime opportunità, per cui niente vi invito a, se non l'avete fatto, a informarvi, a mobilitarvi perché non si può vi tollerare un altro errore.